Salve a tutti, sono Serena Nellamonica, direttore artistico nell'Accademia di Formazione Artistico-Musicale Progetto Sud, con sede a Nocera Inferiore. Oggi parleremo, illustreremo un pochino quelli che sono i nostri laboratori di danze e tambure a cornice. Nel nostro viaggio tra le varie culture e i vari popoli abbiamo deciso di partire da quella che è la nostra terra, che è la campagna, cominciando dalla tambureata, che è il canto e la danza sullo strumento principe della nostra tradizione campana, che è la tambura, cioè questo tamburo a cornice. La tambureata è una danza di origine contadina, è rappresentata da vari stili. Noi ovviamente partiamo da quello più vicino alla nostra zona, che è quello del lago Nocerino Sarnese, che è una danza di corteggiamento e di ritmo binario. Gli strumenti fondamentali che la caratterizzano sono la nostra tamburra, le castagnette, il cantore e la danza. Il ritmo è un ritmo binario con una cadenza ben precisa, che adesso vi illustreremo. Diciamo che questo è il ritmo base che caratterizza appunto la nostra danza. Essendo una danza di corteggiamento in cui ovviamente l'uomo rincorre la donna, ci sono dei momenti in cui questo rincorrersi continuo diventa un vero e proprio contatto con il corpo dell'altro. Quindi un momento in cui i due ballerini, diciamo rincorrendosi, riescono in qualche modo ad intrecciare i loro corpi. Quindi mentre il ritmo inizialmente della tambureata è un ritmo scandito in questo modo. Nel momento in cui i due ballerini, diciamo finalmente, si riescono ad agganciarsi e quindi c'è questo contatto con i due corpi, il ritmo diventa più continuo e anche la voce del cantore si prolunga su, diciamo, questo schema. La battuta normale è questa. A un certo punto avviene la cosiddetta votata o girata in cui i ballerini si agganciano e il ritmo diventa continuo. Questi più o meno sono i momenti caratterizzanti di quella che è la nostra danza. Progetto Sud è un'accademia di formazione artistico musicale, accademia di musica classica e moderna, ma anche centro triniti musicale. Infatti nella nostra sede si tengono esami triniti che sono riconosciuti a livello internazionale come i diplomi del conservatorio. Inoltre facciamo preparazioni per il conservatorio e ci occupiamo un po' di tutti i vari stili di musica, dal pop al rock alla musica classica al folk. Quindi abbiamo corsi di canto moderno, di chitarra moderna, di armonia, di percussioni, ma anche corsi di strumenti appunto tradizionali come organetto, fisarmonica, chitarra battente e violino. E ovviamente i nostri laboratori di danze e tambure a cornice. La nostra è una scuola giovane, siamo tutti insegnanti giovani specializzati nel settore, che facciamo musica da piccolissimi e che la musica alla fine è diventata una ragione di vita, la nostra vita. Per quanto riguarda i nostri laboratori, noi partiamo appunto da qui, i laboratori di danze e tambure a cornice si tengono ogni sabato dalle 15 alle 17. Sono lezioni collettive, quindi aperte a tutti, a seconda poi del livello di preparazione abbiamo corsi appunto di base, corsi di primo livello e di secondo livello. La nostra scuola ha sede in via Eugenio Siciliano, prima attraversa numero 9, anno c'era inferiore. Per tutte le info, contattateci, date un'occhiata al sito www.serenadelamonica.com, potete scriverci, mandarci un'email, sul sito troverete tutte le indicazioni. Insomma, vi aspettiamo anche per una lezione di prova, noi siamo qui. Grazie a tutti!